E' arrivato dal cielo in piazza Plebiscito ad Ariano Irpino per la gioia dei più piccoli Babbo Natale. E' andata di scena infatti ieri pomeriggio la sesta edizione di Natalaios, promossa proprio dai volontari della protezione civile del Tricolle. L'associazione IOS di protezione civile in collaborazione con il Prociv di Avellino, nonché con il nucleo MAF che è un nucleo specialistico che si occupa proprio di lavori in ambienti impervi, sta organizzando il Natale nell'ambito del Natale arianese. Ci occuperemo di questa manifestazione per far sì che i bambini capiscono quelle che sono le attività di soccorso su corda e le equipareremo a quelle che sono le attività ludiche che potrebbe fare Babbo Natale. In piazza Plebiscito, questa location stupenda dove lo spettacolo è tutto naturale, faremo in modo che i bambini possano assistere a questo bellissimo spettacolo. Il Natale è il momento più coinvolgente per tutte le famiglie, quindi cerchiamo quel momento magico che può essere il Natale per far sì che si uniscono i bambini con le famiglie e venite ad assistere a questo splendido spettacolo. Come simbolo regaleremo dei pupazzi e delle caramelle, proprio per far sì che questi bambini si rendano partecipi e rendano piugioso questo magnifico Natale. Voglio fare un augurio a questa città di Ariano che sta in una fase di partenza per quanto riguarda lo sviluppo e la valorizzazione del turismo su questa città. Quindi voglio che tutti gli aranesi siano propositivi verso questa città, faremo in modo che la città di Ariano possa essere sempre più esplosiva verso queste attività di attrazione, verso la gente di fuori.